Alessio, posso firmarti? Wow, bravo! Certo! Vero? Prontissima! Ah, mi ha tirato di me! Pallolega, qui a Barlinghera, non posso tregarci! Che posto fantastico, che posto fantastico, veramente! Questa è un passeggero, la passeggera, anzi! Come va? La signorina sta per volare quella prima volta. Quali sono le sensazioni? Sono emozionata, stufita, non so che dire! E c'è un po' d'anzietta, però no, tutto bene, sarà bellissimo, il panorama è bellissimo, così... C'è un po' di bene! Anzi, anzi è normale! Anzi, sì! Anzi, adesso facciamo la prova in drago! Ok! Facciamo la prova di corsa, ma vedrai che ce la facciamo! Allora, noi siamo attaccati al deltaplano. Il deltaplano, a sua volta, è attaccato alle forze aereo e rinanti che lo sostengono e non gli permettono di scendere velocemente, ma lui scende piano, piano... Sì, vedrai... Il vaccino fa la quale, alla... Il vaccino è lungo, la stessa... Io alzo il deltaplano, c'è da qui... Mi sono sempre stata taccata al punto... C'è da qui... C'è da qui... C'è da qui... Pari l'aria? Allora? Allora? Ehi, la fa la parte... Corbi! 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 Am vedi Flippa come si può digitè al�iquatico! Di nessuno vabrando ist�로 di s produzione! Giù! Slita! Juhuuu! Già... L'esinta, l'esint Clara... Give me theINE Nasim è success' Grazie a tutti 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 Grazie a tutti